parliamo di distribuzione binomiale quindi quando parliamo di distribuzione binomiale facciamo riferimento a un processo casuale con due soli risultati possiamo avere il successo ovvero l'insuccesso parliamo di due risultati possibili ricordiamo che in questo caso ha senso utilizzare il termine binomio per indicare i due casi possibili questa distribuzione della variabile casuale aleatoria ricordiamo che qui facciamo riferimento a una variabile casuale aleatoria che indichiamo con x si chiama distribuzione del Bernoulli quindi ricordiamo che x è una variabile casuale aleatoria discreta distribuzione binomiale consente di calcolare la probabilità di ottenere x successi su n prove quindi praticamente io sono interessato ad eseguire n esperimenti quindi ricordiamo che è molto importante ricordare questo che ogni prova fornisce due soli risultati possibili successo o insuccesso le prove sono indipendenti quindi le n prove sono indipendenti l'una dall'altra e la probabilità P di successo in ogni prova è costante noi chiamiamo Q1-P la probabilità di insuccesso quindi a questo punto siamo in grado di stabilire e di definire la probabilità di avere x successi su n prove e qui elenchiamo le condizioni che abbiamo prima citato cioè ogni prova ha un esito binomio quindi successo e insuccesso le prove sono indipendenti l'una dall'altra la probabilità di successo è costante per ogni prova indichiamo con P la probabilità di successo in ogni prova e con Q la differenza di 1-P quella di insuccesso si dice in questo caso che x grande ecco qui è importante ricordare che facciamo riferimento non al valore ma alla variabile aleatoria discreta x pari al numero di successi su n prove ha una distribuzione binomiale in effetti la distribuzione della variabile x è di tipo binomiale adesso vediamo un grafico quindi se indichiamo con fx la funzione di probabilità della variabile aleatoria discreta x con possibili valori di successo e insuccesso indichiamo con x1, x2, xn i valori che può assumere la variabile aleatoria noi dobbiamo ricordare che quando abbiamo affrontato la distribuzione di variabili aleatorie continue ci siamo soffermati praticamente su quello che è stato il concetto di funzione di probabilità e ne abbiamo parlato definendoli in un certo qual modo ora qui facciamo riferimento invece alla funzione di probabilità di variabili discrete e la caratteristica è questa che la funzione di probabilità di variabili discrete rappresenta la probabilità che la variabile aleatoria x assuma il valore xj quindi ricordiamo che la variabile aleatoria x può assumere i valori x1, x2, x3, xn quindi la funzione di probabilità rappresenta ecco a questo punto possiamo dire che rappresenta la probabilità che la variabile aleatoria x assume il valore x con j in questo caso io ho indicato il valore appunto con xj e differisce in parte da quelle che noi abbiamo utilizzato nelle variabili aleatorie continue nel senso che ecco nel caso delle variabili aleatorie continue abbiamo detto che la funzione di probabilità non era puntuale perché il valore puntuale corrispondeva a zero se noi ricordiamo nella curva di Gauss noi calcolavamo la probabilità che la variabile x assumesse aleatoria x un valore compreso tra due valori x1, x2 facendo un integrale definito in questo caso noi con la funzione di probabilità nel discorso di variabili aleatorie discrete siamo in grado di calcolare puntualmente la probabilità cioè posso dire qual è la probabilità che la variabile aleatoria x assume valore pari ad xj e quindi questa funzione di probabilità consente di avere appunto questa probabilità quindi ricordiamo questo che lo ribadisco la funzione di probabilità presenta la probabilità che la variabile aleatoria x assume un valore x con j qui ho indicato con xj il valore che assume la variabile aleatoria x ripeto che può assumere valori x1, x2, xn quindi xj sta in diciamo tra i valori e compreso tra x1 e xn con x grande indico la variabile aleatoria con p indico la probabilità quindi l'alunno deve ricordare appunto cosa si intende per funzione diciamo di probabilità a differenza della funzione di probabilità di variabili aleatorie continue in quelle discrete la fx con i puntuale non è nulla perché assume praticamente una probabilità possiamo dire precisa ecco questo il concetto di dire che non è nulla passiamo avanti quindi ripeto e riscrivo la formula del Bernoulli la funzione di probabilità della variabile aleatoria x che assume valore in questo caso xj si calcola con questa formula n su x ricordiamo che n sono gli esperimenti che stiamo realizzando x sono il numero di successi che vogliamo quindi in parole povere se noi pensiamo che la variabile x può assumere valore 0, 1, 2, n io qui andrò a sostituire 0, 1, 2, 3 ed n quindi ogni volta calcolo quella che si chiama la probabilità di ottenere che è la variabile discreta assuma allora appunto 0, 1, 2, n in n esperimenti quello che noi abbiamo detto si realizzano appunto x successi in n esperimenti quindi questa funzione di probabilità indica una probabilità quindi in questa forma noi mettiamo qui il numero di esperimenti che realizziamo qui indichiamo il numero di successi che varia tra 0 ed n perché io eseguo 0, 1, 2, 3 fino ad n prove che indica la probabilità del successo elevata di x e qui metto q sarebbe 1 meno p la probabilità di insuccesso elevato alla differenza n meno x quindi x indica una variabile a tonia discreta e n numero di prove ed n valori che può assumere no x questo rappresenta un x correggiamo la scrittura possiamo dire che in questo caso x rappresenta i valori che può assumere la variabile aleatoria discreta x ecco l'alunno deve per attento a non confondere i valori che può assumere la variabile aleatoria con i valori stessi sono due cose distinte quindi la variabile aleatoria x può assumere il valore 0, 1, 2, 3 ed n quindi io con questa formula cosa faccio? calcolo per l'unica variabile aleatoria la probabilità che assuma valore 0 quindi avere 0 successi un successo, due successi e via dicendo in n prove dunque p rappresenta quella che abbiamo chiamato funzione di probabilità ovvero probabilità di avere n successi in n prove ovvero leggo meglio qui direi p è la probabilità di avere un numero di successi in n prove uguale ad x quindi qui dobbiamo stare attenti a dire questo che se vogliamo n indica il numero di prove torniamo un attimo indietro quindi noi diciamo che n indica il numero di prove che vengono il numero di esperimenti e x piccolo ecco da non confondere con x grande indica ecco il numero di successi che vogliamo ottenere in n prove quindi rappresenta quello che abbiamo chiamato fino adesso il valore che può assumere la variabile aleatoria x grande quindi utilizziamo questa formula n su x piccolo per p elevato a x piccolo per q elevato a n meno x anche qui correggiamo questa scrittura indicando appunto n meno x qui ho rappresentato in questo diagramma quello che si chiama il grafico della funzione di probabilità ecco è molto interessante far notare questa distribuzione discreta si chiama anche distribuzione binomiale la cosa interessante di questa distribuzione è che ha una caratteristica precisa ha un numero di prove uguale a 20 e quindi in questo caso indichiamo n uguale a 20 il numero di prove e la probabilità p di successi pari appunto a 0,5 q sarà anche 0,5 si vede questa somiglianza con la distribuzione gaussiana dove lì avevamo variabili aleatorie discrete e continue qui abbiamo variabili aleatorie discrete e discrete non continue quindi qui abbiamo sulle ordinate riportiamo ecco qui sulle ordinate dovremmo riportare i valori che assume per x qui x indica i valori assunti dalla variabile aleatoria che noi abbiamo indicato con x grande quindi ricordiamo che x maiuscolo indica la variabile aleatoria discreta che può assumere valori naturalmente quali sono i valori che può assumere i valori sono x1 li scrivo qui x1 x2 x3 x4 in questo caso arrivo ad x20 e che riporto sull'asse delle ascisse quindi qui riporto i valori che può assumere la variabile e qui riporto invece la probabilità che assuma il valore 1 2 3 n quella che nella distribuzione si chiama appunto la probabilità che si abbia un successo due successi zero successi e via dicendo fino ad arrivare naturalmente ad n prove questo è il concetto quindi abbiamo visto che qui abbiamo una curva simmetrica se vogliamo ma è interessante dire anche questo che se x è una variabile casuale binomiale con parametri n e p possiamo anche per la variabile appunto binomiale calcolare come abbiamo fatto per la variabile continua è quella che si chiama il valore medio e la varianza quindi noi siamo interessati in questo caso a determinare il valore medio e la varianza quindi se x è una variabile aleatoria discreta quindi sottolineiamo il discreto noi parliamo qui di discreto con parametri n e p ricordiamo che n sono il numero di esperimento e p il successo per ogni esperimento dove n ecco il numero di valori x con i possibili cioè che può assumere la variabile aleatoria discreta x p probabilità di successo il valore medio della variabile aleatoria discreta x è uguale a n per p si deve fare il prodotto del numero di prove per la probabilità di successo mentre la varianza quella che si chiama sigma quadro è data dal prodotto di mu in questo caso valore medio per p oppure si moltiplica n per p per q ricordando che q è uguale ad 1 meno p questo è quello che è necessario ricordare diciamo che al crescere di n nella distribuzione binomiale la funzione di probabilità quella che abbiamo chiamato fx assogna sempre di più a una curva campana questo è interessante la curva campana dobbiamo pensare diciamo alla distribuzione gaussiana se vogliamo e e quindi c'entra intorno al valore medio mu uguale n per p cioè noi qui possiamo pensare il valore medio di questa distribuzione qui diciamo che questa convergenza è tanto più veloce quanto più la probabilità di successo è prossima a un valore pari a 0,5 quindi con questa ultima slide terminiamo la video lezione invitiamo l'alunno a visionare ulteriori video lezioni caricate sullo stesso canale riferita appunto alla distribuzione binomiale molto interessante come distribuzione di variabili discrete ricordando appunto di prestare massima attenzione nella distinzione di variabile aleatoria discreta e di valori che essa può assumere e di probabilità che la variabile aleatoria discreta assuma quel valore quindi defida con quella che noi abbiamo chiamato la funzione di probabilità fine della video lezione che la variabile che la variabile che la variabile